Salve a tutti ragazzi e benvenuti su HondoTV Oggi ci troviamo su Real Horror Stories Consigliato su Facebook da un iscritto e subito Passato già un qualcosa nella home Consigliato da un iscritto, non ne ho mai sentito parlare se vuoi dire la verità E passa già gente, così è la cazzo E iniziamo subito Play New Allora, Game Horror, aspettate che il volume è proprio alto quanto Gesù E... Real Horror Story Mi sono fatto paura da solo, perfetto Oh, c'è la luna piena Allora Oh, comunque questo è un gioco tipo punto e clicca di bimbi minchia e... Non so cosa dobbiamo fare Ok, ora cliccheremo sempre una luce Che la luce sia con me Ehm... Qualcuna ha perso una bambola Ah, ora dobbiamo cliccare fin quando no Ciao nonna Mi dai qualcosa di soldi? Sto da verde No, non piangere nonna, non gli chiedo più i soldi No, non posso più cliccare quel coso Ah, no, no Raga, ho già messo a casa sotto Voi non la sentite una puzza di merda Ma io sì, piano piano la sento sempre di più Ehm... Distruzione globale E... Adesso Ehm... Cos'è? Ho una bella bambina Quando finisce sto livello Di nuovo la bambina Di nuovo la bambina Di nuovo la bambina Di nuovo sta troia! Di nuovo la bella bambina Bella due... Due paia di palle Ciao E si alza da solo Dove è andata quella puttana? Puttane fin da piccole No, davvero raga Non mi sento bene Ehi, piangi tu Brutta troia Devo piangere io Che mi sono preso già quattro Ma da sto piangendo Ma vi girerà col cuore che mi batte a mille Non lo posso fare io sti giochi Ehm... Ma dai non piangere Ti è passato pure di nuovo quel frocio dietro Non piangere dai Ehm... Abbiamo capito che mi stava... E non piangere! Non piangere! Bambin Gesù! Ma il ridi in faccia a sto gran cazzo Vi dovete capire spaventare! Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Scusate raga Se qualcuno si è cagato sotto Scrivetemelo nei commenti Mi dispiace Vi dirò scusa Vi risponderò al commento Dicendovi scusa Mi dispiace ma Dovevo farlo Ehm... No Non è che Credevo che adesso mi veniva tipo in faccia Ehm... Ah... Finalmente Una testa Che scompare! Mi ricompare davanti agli occhi Oh! Nonna! Nonna? Nonna? Esplodere! Ahahahahahah Ehm... Mi ha riusciato... Allora... Ehm... Vabbè non mi interessa che questa è incinta Quante volte lo devo aprire? Ahahahah Arrivo a 10 minuti di video Faccio quest'altro livello Poi mi fermo raga Io non ce la faccio Dei lagni Belli belli Eh che cazzo Ah... Finalmente Ah... Perché passa sempre quello? Mi sta sul cazzo Se hai tanta voglia di andare su YouTube Basta che me lo dici Facciamo un video copo Basta che non mi pega da sotto Cioè... Si è ben chiaro Ah... E stiamo a due Tutto in questo... Due Siamo in questo livello Da... E la passa di nuovo Ma me lo sono chiamato Ma io mi devo stare zitto Io mi devo mettere Che schifo L'ho schiacciato Ragnetto Ma io mi devo stare Ragnetto Traia Mi 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 Silenzio sto registrando Porca troia Ogni volta che registro Fanno baccano qua giù Ma che ho avuto qui l'episodio davvero E ho visto che si può continuare Non so se continuarlo Fatemelo sapere nei commenti E se continuerò dovete solo Proprio aprire i miei baci nei piedi Perché è stata un'emozione bruttissima E non vorrei mai più ripeterla Io sono uno che Non è che si prende paura per quello che vede Ma per i rumori Perché poi ho l'audio al massimo Sentire i rumori all'improvviso Non è affatto piacevole Sto vibrando Ho le mani che mi vibrano Quindi concludo quell'episodio Cliccate quel cazzo di like Oppure vi viene uno di quei mostri nel culo E vi inchiappetta E ciao belli Mannaggia gioco del cazzo Grazie a tutti